Lino Guanciale, bentornato su Spettacolo Mania, come stai? Benissimo, spero anche voi. Benissimo, e diamo anche il bentornato ovviamente al commissario Ricciardi, eccolo qui, seconda stagione. Senti, come cambia Ricciardi in questa seconda stagione? Lo vediamo forse un po' più voglioso di uscire fuori, dai, mettiamola così. Sì, si può dire così. Un po' lo sanno già gli appassionati lettori e le appassionate lettrici della serie letteraria, perché continuiamo ovviamente a calcare il solco del primo ciclo di Ricciardi. Ormai è il caso di dire così, perché Maurizio De Giovanni, Bontassu, ne ha inaugurato un altro con Camminito adesso. Però ecco, per chi ancora non lo sa, o per chi pur sapendolo vuol vedere cosa dei libri resta nella versione televisiva, posso dire che sì, Ricciardi ormai ha aperto... Ha aperto molti varchi nella propria corazza rispetto al mondo esterno e ormai è andata. Questi varchi sono destinati a ampliarsi e anche radicarsi. Ricciardi è uno che ha molto da imparare su come perdonare a se stesso quello che è. In questa seconda stagione si vede un bel percorso a riguardo. Diciamo che ecco appunto su quello che è il fatto di vedere le persone morte, di morte violenta e di sentire la loro ultima frase che hanno pronunciato prima di morire. Lui non la vive assolutamente come un dono, ma come una condanna. Però ci sono due cose da tener conto. Intanto che lui comincia a fare i conti con questa cosa, perché diciamo che inizia insistendo sul fatto che non avrà mai figli per non trasmettere questa condanna, poi non so come andrà a finire. E poi stranamente incontra qualcun altro, magari troppo tardi, che scopre che non è l'unico ad avere questo problema con i morti. Giusto? Parliamo di numeri, per esempio. Beh, sì. Capire che la sorte che hai è in qualche modo connessa alla sorte di qualcun altro, ti aiuta, non dico a normalizzarla, perché di normale in questa condizione c'è poco rispetto alla maledizione di Ricciardi. Però a relativizzarla, quello senz'altro. Ricciardi non credo che abbia esagerato le implicazioni della maledizione che ha, perché ci sta assolutamente che uno per proteggere gli altri, per proteggere il futuro di eventuali figli, non voglia che astenersi dal generare ulteriore dolore. Il punto è che poi comprendi che hai diritto a essere felice, che poi comprendi che comunque nella vita la sofferenza è un dato ineliminabile, non soltanto per Ricciardi, a cui ne tocca tanta, sopparcarsi di tanta sofferenza di altri, perché bisogna immaginare che questo dono lo condanni a ogni angolo di strada a percepire l'esistenza di migliaia di vittime al giorno di una sorte di morte violenta, insomma, come quella che lui ha il dono di percepire. Però nonostante questo la vita vale la pena ad essere vissuta fino al fondo delle proprie possibilità, in termini, dico, di realizzazione, di felicità, di gioia personale. E' un lungo romanzo di formazione sentimentale, quello del primo ciclo del commissario Ricciardi, in dodici romanzi, in dodici capitoli. Adesso siamo nella fase in cui Ricciardi questa cosa comincia ad avere a elaborarla, in effetti. Bisognerà vedere con chi, perché è pieno di donne, sta seconda stagione. Allora abbiamo la dolce Enrica, abbiamo la spavalda Lidia, e poi abbiamo una nuova entry, una contessa di cui non parliamo, ma insomma, tutte ste donne. Ma poi malgrado se stesso, perché non è che faccia alcun che. Malgrado il suo essere così restio. Il punto è che credo che, poi non sono donne casuali, perché sono donne in modi diversi dotate di una sensibilità e di intelligenza straordinaria, che in qualche modo, io credo, percepiscono quanto non si sia davanti a una specie di sociopatico, ma si sia davanti invece ad un essere profondamente empatico, profondamente segnato da un dolore che non perdona a se stesso, e profondamente vocato in realtà al contatto con gli altri. E' di questo che io credo si innamori, si innamora di Ricciardi, o si appassioni, da spettatore o spettatrice, chi si appassiona a Ricciardi. Nonostante tutto, non parliamo di uno che si è arroccato veramente dentro una fortezza di distanza dagli altri. Ha trovato un suo modo, invece, per avere cura degli altri e del mondo che lo circonda. Io penso che le donne che in qualche modo gli si avvicinano, li si avvicinano perché scoprono, percepiscono fortemente questa straordinaria capacità umana. Perché è bello dentro e bello fuori, Ricciardi. Tipo Lino Guan... Con e senza ciuffo. Un'ultimissima cosa, so che ci tieni, ci teniamo anche noi, il teatro. So che sei di nuovo sul palcoscenico. Sì, da qui a maggio sarò in giro con tre spettacoli. Europeana, che è una mia regia, che sarà al piccolo di Milano, in Sala Grassi, in Via Rovello, dal 21 marzo al 2 aprile. Poi il Resita al Sufflaiano, che porto già in giro da tre anni. Non svegliate lo spettatore, tra aprile e maggio ci saranno diverse date. E poi, nelle prime due settimane di maggio, con L'Uomo più crudere del mondo, lo spettacolo che porta in scena insieme a Francesco Montanari, testo e regia di un giovanissimo autore, veramente bravissimo, Davide Sacco, saremo nelle prime due settimane di maggio al Bellini di Napoli e a marzo, in qualche altra data, fra il centro e il nord Italia. Tutte cose di cui sono veramente felicissimo. La scelta è stata proprio nella prima parte dell'anno di impegnarmi a dare un po' di respiro a queste cose belle fatte per il teatro negli anni passati. Viva la TV, viva il teatro. Assolutamente viva. E viva le spettatrici e gli spettatori, soprattutto, che senza di loro... Se fa niente. Se fa niente. Un saluto a tutte le spettatrici e gli spettatori di Spettacolomania.